Grazie a tutti. Saluto particolarmente il Presidente Rizzetto, con il quale abbiamo avuto diverse occasioni di confrontarci e di affrontare i temi comuni del lavoro. Voglio salutare e ringraziare tutti i lavoratori, i dirigenti che si stanno seguendo in diretta streaming, come ormai sta diventando consuetudine. Saluto e ringrazio i massimi esponenti del mondo sindacale che vedo qui presenti. Vedo scuola, non c'è rapini, non c'è sport, c'è pietro, c'è bassi. Saluto e metto in evidenza anche la rappresentante a massimi livelli dell'associazione sindacale degli ispettori del lavoro, in particolare degli ispettori tecnici per la sicurezza. Non a caso si chiama Atzil Comsal, quindi è un'istanza sindacale che nasce nell'albero della Comsal. E questo io lo prendo sempre come un riconoscimento da parte di questa benemerita categoria che ci auguriamo possa ampliarsi quando sempre più. Ora ne parlerà il nostro ottimo Giovanni Luciano che in effetti riuscirà veramente a farci rendere conto di che cosa si potrebbe fare. Quella che presenterà Giovanni Luciano non abbiamo la pretesa che sia la tavola dei dieci comandamenti. Sono delle ipotesi di lavoro, sono delle ipotesi che vengono sottoposte alla valutazione al confronto delle forze politiche e del massimo rappresentante di questa istituzione che per noi, c'è l'Inair, dovrà sempre avere un ruolo sempre maggiore. Quindi non la pretesa della verità assoluta, soltanto che poiché sul piano dei principi siamo tutti d'accordo e che il lavoro non deve essere un progetto di morte ma un progetto di vita e la prevenzione ha la sua importanza e ogni euro speso per la prevenzione, per la sicurezza non è un costo ma un investimento. Da questi principi siamo tutti d'accordo. Quindi è come se ci fosse unità riveduta sul piano teologico, cioè degli scopi e dei fini. Sul piano metodologico, questa è l'innovazione che voglio fare all'ottimo Giovanni e all'ottimo Decalico, nasce da una metodologia che noi attuiamo anche su tutte le altre, diciamo, grandi problematiche del mondo di lavoro, vuoi che sia il salario, vuoi che sia le pensioni, vuoi in questo caso la sicurezza, e cioè sforzarsi di avere sia una prospettiva, una visione strutturale, cioè quindi analizzare a fondo la struttura e quindi tutte le parti, le componenti, sia il lavoratore, l'impresa, l'ispettore e così via, le parti che compongono il sistema della prevenzione, sia dal punto di vista sistemico. Cioè, tra queste parti ci sono tutte le relazioni, i processi che si dovrebbero essere, quali di questi processi vanno integrati oppure migliorati, e da questa imbattazione metodologica nasce questa proposta che noi abbiamo inteso chiamare Decalico, anche per dare, come dire, per dare una rilevanza al nome, cioè affinché venga, diciamo, venga memorizzato il fatto che bisogna fare alcune cose, se le facciamo tutte e dieci è meglio ancora. Quindi questo è quello che mi sento di dire, c'è l'introduzione a Giovanni, con la consapevolezza che abbiamo tre nemici, tre avversari, come dire, da uno, il primo è la speculazione, perché ci specula, falsi imprenditori che speculano sulla scarsa probabilità di essere ispezionati, e quindi lucrano, quindi approfittatori, speculatori, perché lucrano il risparmio sulla sicurezza. Invece, a differenza di tanti, c'è dell'attacante, se non la quasi totalità degli imprenditori invece, per i quali il problema è la preparazione, cioè di essere più preparati, ecco l'occasione per salutare, vedo qui, presenti i massimi esponenti, delle associazioni datoriali che hanno relazioni sindacali con la Comisal, per dire, c'è la consapevolezza che questo tema non riguarda soltanto i lavoratori, ma deve coinvolgere e deve vedere partecipi anche gli imprenditori. E, terzo e ultimo, non per questo meno importante, nemico, è l'asferfazione, quindi la rassegnazione al fenomeno che già è stato messo in evidenza. Quindi la Comisal non pone certezza, una sola certezza, è l'impegno della Comisal affinché non ci sia mai l'asferfazione, non ci sia mai l'assegnazione. Grazie. Grazie, Secretario. Io prima di dare subito la parola a Giovanni Luciano, una breve premessa, ricollegandomi alle parole del Secretario, perché poi la sicurezza sul lavoro è un po' come l'evasione fiscale, da 20 anni, 30 anni sentiamo grandi annunci, lotta dura all'evasione fiscale, alla fine i 100 miliardi di evasione fiscale, una volta sono 80, una volta sono 90, stanno sempre lì, inamovibili, quindi evidentemente c'è qualcosa che non funziona e qualche soluzione che non viene individuata. Sicurezza sul lavoro uguale, quante volte abbiamo sentito gli annunci e i proclami sulle zero morti sul lavoro, poi alla fine i mille morti l'anno purtroppo sono sempre lì. Quindi da questo punto di vista credo che il pacchetto di proposte presentato dalla Comisal rappresenti un'opportunità concreta e seria, perché è un cambiamento di prospettiva, nel senso che non si può continuare semplicemente a dire dobbiamo far di più o dobbiamo solo migliorare gli strumenti che già esistono, ma bisogna cambiare direzione. Io credo che questo cambiamento di direzione, anche perché finora le ricette non hanno funzionato, quindi è evidente che serve calpestare e provare una strada nuova e credo che in questo pacchetto di proposte ci siano questi elementi di cambiamento e di novità che possono tentare di cambiare la situazione a favore della sicurezza, a favore dei lavoratori, a favore della salute. Do subito la parola a Giovanni Luciano che è il presidente dell'osservatorio sulla sicurezza del lavoro della Comisal, storia illustre nel sindacato, è stato anche nel consiglio di diritto e vigilanza dell'INAIL. A te la parola. Grazie, grazie e buongiorno a tutti. A me tocco un compito questa mattina che pensavo arduo, invece penso che sia veramente un compito molto stimolante e ragazzi parlerò a voi, perché se riesco a spiegarla a voi vuol dire che forse troviamo la via giusta. Noi siamo un sindacato, la Consul è un sindacato. Come hanno detto sia il segretario generale che il moderatore Sandro Iacometti, noi abbiamo presentato un decalogo, cioè 10 punti per fare che? Per aggredire un fenomeno che in Italia è diventato una piaga. Adesso vediamo anche dei numeri, vedremo dei passaggi. Cosa facciamo oggi? Presentiamo il decalogo? No, noi non presentiamo il decalogo, l'abbiamo già presentato. Ribadiamo il decalogo, però questa volta non volendoci assolutamente sottrarre al compito che non è il nostro, ma che è dei parlamentari della politica, che ringrazio per essere intervenuti qui, poi saliranno sul tavolo al posto nostro per una tavola rotonda. Perché? Perché a quei punti del decalogo, che adesso esplorerò il più velocemente possibile, noi accompagniamo oggi dei suggerimenti di come si può cambiare la legge perché quei punti si possono applicare. Non abbiamo l'ambizione di essere un ufficio legislativo, quindi i puristi, magari qualcuno alzerà il sopracciglio, però nel merito noi entriamo con uno schema che è molto semplice. Il decalogo, per quanto si veda poco, è lì, ma ce l'avete anche nelle cartelline, ma i punti decalogo sono a sinistra, mentre le ipotesi normative che proponiamo sono a destra. Qual è il primo punto fondamentale di questa vicenda? Noi, leggendo la normativa, la normativa, lo dico sempre ai ragazzi, imparate questo numero, 8108, sarebbe il numero di un decreto legislativo fatto nel 2008, il decreto legislativo 81, tra l'altro abbiamo l'onore di avere al tavolo il ministro del lavoro dell'epoca che lo emanò Cesare Damiano, l'onorevole Cesare Damiano, riassume un po' tutta la normativa della salute e sicurezza sul lavoro in Italia, cioè quelle norme che vanno rispettate per prevenire che cosa? Gli infortuni, per prevenire le malattie professionali, per far sì che nei posti di lavoro ci sia un ambiente salubre e non ci si infortuna, non ci si faccia male, non si muoia, perché purtroppo si muore anche sui posti di lavoro. L'idea qual è? Siccome nel testo unico c'è una frammentazione di competenze su quattro cardini, la vigilanza dell'applicazione della normativa, la informazione, la formazione e la consulenza, perché in Italia ragazzi dovete sapere che la competenza non è tutta dello Stato in alcune materie, per Costituzione, titolo quinto. In questo ambito, siccome c'è la formazione, siccome c'è la salute, la Costituzione prevede che la competenza normativa sia non solo dello Stato centrale, ma anche delle regioni. Quindi questa cosa è un bene da un lato, perché avvicina i cittadini queste cose, dall'altro, e ce l'ha dimostrato il Covid, purtroppo non è sempre un bene. In questa vicenda noi abbiamo il problema di dover coordinare queste cose e noi proponiamo nel decalogo quello che noi chiamiamo polo unico della salute e sicurezza del lavoro, cioè un soggetto che faccia da cabina di regia, che faccia da soggetto coordinatore, che sia un ente superparte, che però intervenga dando omogeneità, dando una gestione unitaria di queste vicende. Il soggetto che può fare questa cosa in Italia ha un solo nome, è quello che oggi ci ospita, è l'Inail, perché qui dentro, vi posso assicurare, fidatevi di uno che ha una certa età, oltre che per una certa esperienza, qui dentro le norme sulla salute e sicurezza sul lavoro le scrivono o partecipano fortemente a scriverle, quindi chi più di loro le conosce. In questo senso noi, in quel famoso testo unico 8108, abbiamo immaginato di mettere in mano l'articolo 9. L'articolo 9 è plurale, enti pubblici nell'8108, che ho fatto? Dicevo, l'articolo 9 titolava, titola, enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, leggete sono tre, però di questi tre, non mi chiedete perché è scritto ancora così, è uno dei misteri che scoprirete andando avanti nella vita, sono tre, però guarda caso, due di quei tre sono stati incardinati qui, sono stati assorbiti nell'Inail da più di 10 anni, quindi noi immaginiamo eventualmente di scrivere l'Inail, perché l'Ispesl e l'Ipsema stanno in Inail da 12 anni, 13 anni, forse 15, e noi immaginiamo appunto di dare al comma 6 di questo articolo, all'Inail, compiti di aggiungendo questa frase in rosso, omogeneità dell'azione di vigilanza sull'applicazione della normativa, formazione, informazione e consulenza, non solo, questa è già un'indicazione normativa fortissima, perché tu a un istituto che non ce l'ha, gli dai una funzione in più che non è mica micio micio baobao, scusate la battuta, ma è una cosa fortissima, e come la facciamo? Aggiungendo una lettera all'elenco delle lettere che ci sono in quell'articolo, che appunto descrivono tutti i compiti che fa l'Inail, di svolgere appunto la funzione di coordinamento pubblico, nazionale e territoriale della vigilanza sull'applicazione della legislazione, allora quelli dell'Inail che sono seduti qui dentro oggi mi direbbero, ma la vigilanza la facciamo già? Sì, però fanno la vigilanza, è vero, sulla correttezza dell'applicazione della tariffa Inail, non la vigilanza, qui in questo caso il coordinamento, non vogliamo togliere nulla all'INL, il coordinamento della vigilanza sull'applicazione della norma, che è tutt'altra cosa, quindi in questo senso queste quattro funzioni, vigilanza, formazione, informazione e consulenza le fanno anche le regioni, anche altri soggetti, quindi il tema è incardinare nell'Inail questa funzione di cabina di regia, o meglio come ci piace dire a noi questa funzione di polo unico, come in un altro articolo che si titola appunto vigilanza, inserendo qui dentro nella legge che la vigilanza sull'applicazione della legislazione di cui al precedente comma 1, queste sono questioni appunto di come si scrive una norma, è coordinata dalla struttura organizzativa istituita presso l'Inail per svolgere le funzioni che vi ho detto prima, quindi quella lettera R e quell'altra funzione di emogeneità, capiamoci, anche qui e soprattutto i parlamentari ci diranno, vabbè ma mica si scrive così una legge, e ci mancherebbe, non è che scriviamo in una legge la struttura organizzativa, probabilmente, sicuramente si scrive l'Inail, ma lo abbiamo voluto tenere, fare proprio questo errore di forma, volutamente perché per noi non si può diluire una cosa del genere, dentro un istituto che ha mille competenze, tutte nobilissime, ma deve essere riconoscibile questa funzione appunto di polo unico, ecco qua, chi è stato? Sono stato io? Ecco qua, dunque, sempre andando velocemente su questa cosa del polo unico, ve la dico, ce l'avete scritta nella proposta che sta nelle cartelline, negli articoli 5, 6 e 7 ovviamente si declina, non la consultazione di Inail da parte dei comitati e degli organi che sono previsti di controllo, che sono previsti nella 81, come per esempio questo che al Ministero della Salute c'è un comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e della vicinanza sull'applicazione delle norme, non ho mai capito perché stanno insieme queste due funzioni che sembrano un po' distinte e quindi questo comitato sarà coadiuvato da questi del polo unico e così di seguito sul 6 e 7 e poi sul polo unico, sull'incardinare queste funzioni fondamentali in questo istituto perché secondo noi serve veramente un intervento anticiclico, se mi posso permettere di dire, perché altrimenti continuiamo a pestare l'acqua nel mortaio sulle stesse cose. Arriviamo al secondo punto che magari riguarda molto più direttamente voi ragazzi, ci sono diverse proposte di legge, so che il nostro amico Presidente della Commissione ne è convintissimo l'Onorevole Rizzetto come altri parlamentari che abbiamo conosciuto anche questa mattina, in Italia sono tutti d'accordo andare oltre quello che già prevede il testo unico in materia di andare nelle scuole a spiegare che c'è un problema di salute e sicurezza per creare una consapevolezza nelle giovani generazioni. È evidente che tu l'educazione non la fai a scuola o non la fai, però ragazzi all'ora delle due lune o continuiamo a parlarne o si fa che nei programmi didattici si inserisce questa misura strutturalmente. La nostra preziosissima segretaria generale dello SNALS, che ringrazio, ci ha fornito una proposta proprio precisa che in sintesi dice che viene introdotto nei curricoli degli istituti di istruzione secondaria e secondo grado l'insegnamento della materia, salute e sicurezza del lavoro. Questa cosa prevede anche un numero minimo di ore, almeno un'ora alla settimana se non ricordo male, lo dico così a memoria senza leggere altrimenti vi annoirei troppo, ma ripeto lo trovate nelle buste con dentro le proposte e c'è tutta una descrizione precisa di come questa attività deve essere incardinata nei programmi didattici della scuola, in modo da passare dalle parole ai fatti. E poi arriviamo a un altro caposaldo del decalogo che dice diffondere una prevenzione partecipata. Un giornalista prima mi ha chiesto che cos'è la prevenzione partecipata. La prevenzione partecipata è che o partecipano tutti i lavoratori in primis alla prevenzione sulla salute e sicurezza, altrimenti è un meccanismo che c'è una legge da rispettare, c'è chi la rispetta pochi e chi non la rispetta tanti ed è un problema degli altri, il problema succede, cioè ci si accorge del problema solo quando c'è l'incidente, solo quando c'è l'infortunio. Noi pensiamo che il veicolo per poter diffondere la partecipazione, quindi il coinvolgimento dei lavoratori e di tutti gli altri attori della produzione nei posti di lavoro siano i cosiddetti modelli di organizzazione e gestione o sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro. Sono essenzialmente una sorta di banalizzo, di checklist per rispettare ciclicamente tutte le normative che sono un po' complesse e per far sì che il rispetto di queste normative con la partecipazione, ripeto, soprattutto dei lavoratori e dei loro rappresentanti possa essere messa al centro della produzione della vita quotidiana in un'azienda. E noi quindi come facciamo a diffondere massicciamente questi sistemi che studi hanno dimostrato che dove sono applicati gli incidenti si abbattono sensibilmente, percentualmente e che laddove sono applicati la gravità degli incidenti è molto minore, più del 40% in meno. So che queste indagini sono un po' datate, ma la Credia sta finendo un'indagine simile, a brevissimo, una survey, come dicono quelli bravi, e siamo molto ansiosi di vedere quali saranno i risultati, ma siamo convinti che saranno risultati incoraggianti. Per fare questo, incentiviamo le aziende, nell'articolo 27, sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, inseriamo una frase che dice che per tutti i settori di attività costituisce elemento di qualificazione delle imprese, quindi si fa tanto parlare di patente appunti, Sandro. La qualificazione delle imprese si ottiene anche e soprattutto con l'asseverazione dell'adozione e dell'efficace attuazione dei modelli, perché non basta applicarli. Questi modelli valgono tre anni, ogni anno vanno verificati, arriva un ispettore che vi fa la verifica in attività, vanno, come si dice, asseverati. O viene uno di una società di certificazione, se è un sistema più elevato, tipo la 45001, viene un auditor di una società certificata a sua volta e vi fa l'analisi del sangue anno per anno, altrimenti la certificazione o l'asseverazione non è valida. E quindi è una cosa molto, molto seria, un controllo sociale molto serio che secondo me viene assolutamente snobbato con grande errore di valutazione. Poi però questi modelli costano. E allora ti arriva l'imprenditore, io siedo ancora nel CIV dell'INAE e ho parlato con il rappresentante di Confindustria, degli artigiani piuttosto che di commercianti e dico, ma perché non applicate i MOG, i modelli di organizzazione e gestione? Eh ma sai, ma qua perché non entro nel merito, ci vuole un convegno apposto, ma vi posso assicurare che A salva gli imprenditori dalla galera, davvero, B aumenta la sicurezza, C realizza la partecipazione e però costano, però costano, eh ma c'è lo sconto dell'INAE e però il gioco non vale la candela perché la percentuale, Franco, è poco, in effetti è poco, tanto è vero che gli incentivi che fa l'INAE adesso, lo vedremo, che ne so, su un meccanismo che abbassa la tariffa se investi sulla prevenzione, che chiamano i tecnici OT23, l'INAE quanto spende Franco Bettone? 140 milioni all'anno più o meno, ma non per i MOG, per tutte le iniziative, voglio dire è troppo ferraginoso e è troppo poco lo sconto. Noi proponiamo appunto per diffondere questa partecipazione, quindi questi MOG nelle aziende, un meccanismo che dica, aggiungendo il punto 7 all'articolo 30, che le aziende che asseverano l'adozione e l'efficacia di attuazione dei MOG, usufruiscono della riduzione della tariffa INAIL, le aziende ragazzi ogni mese devono pagare la tariffa, questa è un'assicurazione, fa mille cose di INAIL nobili, ma nasce come assicurazione sociale, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e ogni azienda è tenuta ad assicurarsi. Quando prenderete, spero il prima possibile per voi, una striscetta paga, vedrete in alto a destra un timbro INAIL, quello certifica che l'azienda che vi paga ha pagato il premio dell'INE, quindi il premio dell'assicurazione. Quindi in base al loro dimensionamento, noi proponiamo che fino a 10 dipendenti, perché le aziende in Italia sono 4 milioni e 400 mila, però segmentate essenzialmente in classi dimensionali. Noi seguiamo questa distinzione, anche se la distinzione che fanno altri istituti è diversa, ma fino a 10 dipendenti, da 11 a 50, quindi micro, piccole, medie e grandi aziende. Per i primi due anni una micro azienda con meno di 10 persone, se applica un MOG a severo MOG, deve avere lo sconto totale della tariffa INAIL e nel secondo anno del 70% e via di seguito, 50-40, 30-20, oltre i 200-10% per i primi due anni. Ovviamente il mantenimento nel tempo della severazione struttura degli sconti fissi. Qual è la differenza rispetto a oggi? Che questa è per legge strutturale, c'è l'asseverazione, c'è automaticamente lo sconto. Strutturale del 50, oggi è il 28, del 50% fino a 10, 30, fino a 50, 15, fino a 200, 7,5 oltre i 200, oggi è 5%, ma non è strutturale, ripeto, c'è tutta una procedura da fare per vedere se poi te lo danno. Ovviamente chi già ce l'ha usufruisce di questi sconti. Adesso ovviamente soprattutto i dirigenti dell'INE, il Presidente, il Direttore Generale che in questo momento sta combattendo a Palazzo Chigi per il decreto lavoro, appunto per i soldi e quant'altro diranno, ma questi soldi dove li pigliamo? Non apro la questione degli avanzi INAIL, soprattutto davanti ai ragazzi, perché non saprei come spiegarli. Mettiamola così, o meglio, sarebbe talmente incredibile alle menti giovani un paradosso del genere, perché noi abbiamo in Italia due numeri che aumentano costantemente, gli infortuni sul lavoro e gli avanzi di bilancio positivi dell'INAIL e non si riesce a capire com'è possibile una cosa del genere, o meglio, c'è una spiegazione, ma non è il momento di farla soprattutto. Noi abbiamo fatto uno studio, il nostro centro studi è andato ad analizzare sulle classi dimensionali e i flussi di tariffa rispetto al monte salari. Ve la sintetizzo così, per i primi due anni se tutte le aziende italiane fossero asseverate il costo sarebbe di circa 3 miliardi, a regime invece la differenza sarebbe poco più di 650 milioni rispetto a oggi. Ma gli effetti positivi la accenno, poi alla fine facciamo una bella domanda a tutti noi e a chi deve fare la tavola rotonda. Ma gli effetti positivi ammortizzerebbero presto l'investimento, perché quei MOG abbattono gli incidenti. Ci vuole un po' di tempo, ma l'investimento significa che prima ti indebiti per poi recuperare, se vuoi cambiare davvero questa situazione. Detto ciò, ve la faccio vedere velocemente perché non si vedrà molto bene e non è il caso di annoiarvi con numeri, ma abbiamo studiato quello che stiamo dicendo, abbiamo la cognizione di averlo fatto andando a studiare tirando giù tutti i numeri e quelli a destra sono le differenze. Poi manderemo a tutti gli interventori di questo convegno, questo studio del nostro centro studi per farvi capire che poi la notte non è poi così nera. E poi andiamo a un'altra proposta fortissima, un'altra proposta fortissima che non è banale, che va appunto a potenziare quel rapporto di consulenza, cioè favorire, ristaurarsi di un rapporto di cooperazione e collaborazione tra le aziende e chi deve far rispettare le leggi, oppure chi le leggi le scrive, oppure chi può venirti a dire guarda così stai sbagliando, facciamo in un altro modo. Dici ma ci sono i consulenti privati? Sì, però c'è questa porta aerei che si chiama Inel e perché non inserire appunto nell'articolo 6 che parla proprio di queste funzioni che le aziende che lo richiedono possono avvalersi di un sopralluogo di natura consulenziale, fatto proprio da quella struttura del polo Inel, perché no? Io durante l'incontro col Ministro del Lavoro dove abbiamo sconvocato le parti sociali abbiamo parlato di questo decalogo, ho sentito da più associazioni di piccoli imprenditori una richiesta di questo tipo, perché ovviamente il tema è o c'è il bau bau, dice oddio, ma arriva lì nel dentro e chissà che mi succede, non ti succede niente, perché la stessa 81 oggi dice che un rapporto di questo tipo non fa scattare alcuna ritorsione, alcuna azione amministrativa, se invece fossero gli ispettori dell'INL o delle ASL non si potrebbe fare, perché? Perché loro sono ufficiali di polizia giudiziaria, obbligati a attuare, sospensione, tutte le cose che chiusura, denunce e quant'altro, trasmissione degli atti alla procura, quindi in quel caso ovviamente non si potrebbe fare, perché vigilanza sull'applicazione e consulenza per legge sono due cose assolutamente antitetiche, chietate, la stessa 81 le chieta. Questo però significa, io voglio incardinare questa roba nell'INA e voglio che ci sia un nucleo che possa fare queste cose, ovviamente potenziando gli organici, dando la gradualità a questo potenziamento e rispettando un congruo rapporto funzionale tra personale e aziende, così come un'altra proposta del decalogo è quello di incrementare fortemente l'organico degli ispettori tecnici e anche qui abbiamo immaginato all'articolo 13 un comma aggiuntivo dove alla fine della fiera tutte queste cose che sono scritte, il succo del discorso è conseguire in un triennio, possibilmente, un rapporto numerico tra aziende e personale assegnato agli uffici che svolgono l'attività con particolare attenzione non agli amministrativi ma agli ispettori tecnici da consentire una visita almeno biennale. Sapete che è successo qualche anno fa? Qualche anno fa c'è stata l'ennesima strage, l'ennesimo periodo dove la televisione continuava a bombardarci purtroppo di notizie nefaste, il Presidente della Repubblica, che come correttamente ha ricordato il Presidente Bettoni è molto sensibile a questo tema, lo siamo tutti, ma se lo è anche lui tanto meglio, ha chiamato l'allora Ministro del Lavoro, Andrea Orlando e ha detto che fate? Il Ministro, sarà tre anni fa oramai, ha detto stiamo assumendo mille ispettori all'INL, spero che a brevissimo, mi hanno dato notizie gli amici dell'ATESL che sono proprio dentro l'INL loro, a brevissimo dovrebbero finalmente arrivare, poi partirà la fase della formazione, il concorso purtroppo non si è rivolto solo agli ingegneri, agli architetti come prevede questa normativa per quello che devono fare, però guardate che rispetto al numero di aziende che ci sono, noi non siamo, siamo più per la prevenzione partecipata che per la repressione, o meglio per l'ispezione, però non può essere neanche che il rapporto, la percentuale, la probabilità di essere visitati o controllati sia pari quasi alla probabilità che hai di vincere il 6 al superenalotto, perché così non funziona, così non può funzionare. Guardate, io quando ho tempo, volontariamente e gratuitamente per amici vado a fare anche degli audit o delle verifiche sui MOG, perché sono qualificato. Vi assicuro che c'è gente ancora oggi che gli chiede il DVR, il documento di valutazione dei rischi, come avere la patente per guidare la macchina? E ti rispondono che roba è. E non sto scherzando, e non sto scherzando. Velocemente, formazione RLS a livello RSPP. Qui me la cavo con una metafora molto semplice. Se c'è un tavolo dove siedono due persone di qua e di là che hanno interessi contrapposti, ma poi convergenti, perché l'interesse è la salute e la sicurezza, in questo caso i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, RLS, e dall'altro lato il datore di lavoro piuttosto che l'RSPP, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, questo tavolo deve essere equilibrato. Non può essere che vi sedete di fronte a qualcuno che è messo in una condizione che vi lascia subalterni. Oggi come oggi l'RLS ha 32 ore di formazione per legge, obbligatorie, l'RSPP 100. Adesso non è una questione di differenza di ore, è una questione di contenuto di quella formazione. Sapete cos'è questo? Sapete quanti milioni vale questo pezzo di carta? Questo è l'effetto di un BRIC, Bando di ricerca in collaborazione. Sono quei soldi che l'Inail ogni anno stanzia tanti milioni di Euro per fare delle ricerche. Questo è il frutto di una ricerca del 2017. Che ricerca è questa? Una ricerca su un campione di più di 3 mila rappresentanti dei lavoratori sulla sicurezza che alla fine hanno detto che abbiamo bisogno di maggiore formazione tecnica. Perché se ti siedi di fronte all'ingegnere della ditta o sei un'autodidatta o sei uno proprio che ci si metta, altrimenti ti trovi per forza in una condizione di subalternità. Quindi la nostra proposta per rafforzare gli RLS, la loro formazione, è che quando c'è l'accordo Stato-Regione sulla formazione si dovrà tenere in debito conto di fornire un'adeguata formazione natura tecnica comparabile a quelle delle figure di cui al precedente 32, 1 e 2, che altro non sono che ASPP, quindi gli addetti e i responsabili. Velocemente arriviamo anche qui in tema di formazione. A quanto noi chiedevamo nel decalogo, chiediamo che sollecitiamo l'applicazione delle modifiche in materia di formazione. Il 1 maggio il decreto lavoro pare che qualcosa lo porti a compimento. Noi abbiamo intercettato qualche bozza, c'è l'articolo 15 di questo decreto, se rimane quello, che però non è che faccia grandissime cose. Formazione del datore di lavoro, speriamo che venga attuata il più presto possibile e quant'altro. Però noi invece proprio su input, qui ci sono dei signori, ragazzi, che lo fanno di mestiere, l'ispettore tecnico dell'INL, vanno a fare le verifiche e ci hanno detto qui al di là delle chiacchiere o si abbatte il fenomeno degli attestati fici, quindi non uso il sindacalese o il politichese perché se no i ragazzi non mi capiscono. Se io devo fare la formazione sulla salute e sicurezza, sulla formazione in genere, la salute e sicurezza devo essere accreditato dalla regione, cioè devo possedere dei requisiti precisi, però se io poi non faccio quello che devo fare e alla fine faccio apparire, purtroppo a volte capita, che l'ho fatto e do l'attestato, poi non c'è nessuna certezza che questa cosa sia avvenuta veramente. E quindi sul suggerimento dei miei amici dell'ATISL immaginiamo un 13 bis per garantire la tracciabilità di quegli atti in una banca dati che possa essere istituito sempre qui nel Polo. Finisco e ho finito, date un sospiro di sollievo, ho finito, perché negli ultimi due punti, guardate che non è semplice, negli ultimi due punti che sono il potenziamento della prevenzione, quindi maggiori investimenti da concedere all'Inel e l'incremento delle risorse per la ricerca scientifica prevenzionale, di cui si parla sempre troppo poco, nonostante il grandissimo sforzo dell'Inel su questo, si parla troppo poco, perché la ricerca scientifica prevenzionale, oltre che studiare tutto quello che ha a che fare con gli infortuni, studia assolutamente quello che ha a che fare con le malattie professionali. Le malattie professionali sono una brutta bestia, perché gli effetti delle malattie professionali, quelle serie tipo l'amianto, si vedono purtroppo quando non si è ricorsa ai ripari prima, e quindi la ricerca scientifica è assolutamente fondamentale in questo. Io ho finito le slide, ma vi lascio con quattro numeri messi in croce. Questi quattro numeri messi in croce dicono, l'Inel, Silvia è qui presente, la responsabile della statistica dell'Inel, quindi quella che ci dà tutti i dati, la struttura che ci dà tutti i dati, che poi vengono diffusi. Nel 2022, all'inizio del 2023, è venuto fuori questo rapporto annuale e gli infortuni denunciati all'Inel, quindi le denunce di infortuni sono state 700 mila circa. Guardate, anche qui non so come spiegarvelo, meglio so come spiegarvelo, non so perché non cambia questa situazione. Nel 65 qualcuno ha tirato fuori un DPR, Presidente della Repubblica dell'epoca, è venuto fuori il decreto, il testo unico sull'assicurazione obbligatoria sugli infortuni del lavoro. Lì ci sono tutte le regole che l'Inel deve rispettare. In quell'epoca c'erano le fabbriche, c'erano le campagne e c'era un po' di servizi. È cambiato tutto e più di 3 milioni e mezzo di persone in Italia non sono assicurabili dall'Inel. I vigili del fuoco, non dovete meravigliarvi, ma purtroppo è così, i vigili del fuoco, cito i vigili del fuoco, posso citare tutte quelle false partite a IVA che vengono costrette a aprire la partita a IVA e poi non sono assicurabili dall'Inel, eccetera, eccetera. I vigili del fuoco non sono assicurati dall'Inel. Per dire un esempio, di 3 milioni e mezzo di persone, gli unici che si sono un po' salvate a questa anomalia sono stati i cosiddetti rider, perché a volte le cose cambiano sull'onda emozionale, sulle cose romantiche e allora i rider sono stati messi dentro. Ma quanti rider senza bicicletta ci sono in Italia? E perché non devono avere il diritto di essere assicurati dall'Inel? Quindi a questi numeri dovete sommare tutti quelli che l'Inel non vede, perché non hanno la denuncia, che non stanno in questi, stanno in quei 3 milioni e mezzo, più tutti quelli che stanno nel lavoro sommerso, nel lavoro nero, che è un'altra piaga da combattere in questo senso. Come vedete l'anno scorso, mentre le denunce vado a memoria, sono aumentate di 22, 23%, mi ricordo, il numero dei morti per fortuna è diminuito rispetto all'anno precedente, ma siamo sempre oltre i 1000, oltre 1000, 1090, siamo sempre lì con questo numero 1000 che non riusciamo a sfondare dal 2015, ci siamo fermati su questa roba e sono 8 anni che si è inchiodato tutto così. Il costo di morti, di infortuni, di lutti, di dolore, a me è capitato in diversi convegni purtroppo, di assistere alle testimonianze di madri che vengono a descrivere l'infortunio mortale del figlio di 28 anni, piuttosto che... vi assicuro che anche quando sei figlio e ti muore il padre per l'infortunio sul lavoro e so di cosa parlo purtroppo, è una cosa tremenda, ma al di là di tutto questo che già da sé giustificherebbe investimenti miliardari, ci sono istituti internazionali che stimano il costo economico di questo fenomeno nel mondo al 3% del prodotto interno nord, del PIL. Il prodotto interno nord, i ragazzi lo sapranno senz'altro, è la somma di tutte le attività economiche che fa un Paese. L'Italia l'anno scorso ha cubato nel 2022, dati Istat, 1909 miliardi di PIL. Studi dell'Agenzia europea sulla salute e sicurezza che hanno analizzato, già qualche anno questa statistica, hanno analizzato 5 Paesi tra cui l'Italia, ci dicono che l'Italia non ha un costo del 10% come la Polonia, l'Italia non ha neanche il 3% come la Germania, l'Italia ha il 6,3% di costo ogni anno, significa pensioni in più, sanità, ospedali, perdita di competenze, indennizi, tutto quello che è pure. 1909 miliardi fa 120 miliardi, l'anno scorso se questa statistica è attendibile, il Paese ha pagato 120 miliardi. Ma mi dicono sempre, eh ma non può essere troppo, ok, facciamo che la metà, e so 60 miliardi, cioè abbiate pazienza, ma delle due l'uno. O c'è la volontà politica, quindi l'affido a Sandro Iagumetti, perché poi alla fine, ragazzi, il tema è queste proposte, queste cose barbose, la discussione, ma il perché, tutti e tutti, non bastano più gli slogan, la domanda è molto semplice, noi chiediamo sempre come sindacato ai datori di lavoro di investire, gli diciamo sempre, gli facciamo una lezione, perché la prevenzione non è una spesa, è un investimento, ok, il datore di lavoro ti guarda e può pure pensare nel suo retrocanio, sì, se c'ho i soldi investi, se no come devo fare? Domanda, è corretta questa cosa al datore di lavoro, ma lo Stato, atteso che ha quei mille morti all'anno e tutto quello che c'è dietro, è che costa lire di Dio questo fenomeno? Lo Stato vuole investire per la sicurezza sul lavoro o abbiamo un problema con il ragioniere generale dello Stato che non ci dà la copertura pur avendo 5 miliardi di avanzo sulle riserve tecniche qui dentro? Questa è la domanda, grazie. Grazie, grazie Giovanni Luciano. Ora cerchiamo un po' di risposte a questo punto della politica, di domande ne sono state fatte tante, sia di proposte sia di interrogazioni, cerchiamo un po' di risposte e facciamo a questo punto salire sul palco gli esponenti politici e delle istituzioni che ci sono venuti a trovare, quindi facciamo salire tutti, sì, allora chiamiamo il Presidente della Commissione del Lavoro Walter Rizzetto, l'Onorevole Chiara Tenerini di Forza Italia, il Senatore Tino Magni di Alleanza Verde e Sinistra Italiana, l'Onorevole Antonio D'Alessio di Azione, l'Onorevole Cesare Damiano è già qui che è nel CDA dell'INAIL e l'Onorevole Valentina Barzotti del Movimento 5 Stelle. Grazie. Perfetto, rapidamente abbiamo fatto il cambio, quindi io direi siccome poi molti di loro hanno degli impegni istituzionali e quindi giustamente devono velocizzare un po' i loro interventi, io direi di partire immediatamente insomma dal Presidente della Commissione del Lavoro, onorevole Rizzetto che forse è quello anche che in questo momento potrebbe avere la capacità di dare delle risposte concrete ai quesiti che sono stati sollevati, ai temi che sono stati sollevati nel corso dell'interruzione fatta da Giovanni Luciano. Allora grazie Dottor Iacometti, grazie a tutti per la vostra ospitalità, saluto ovviamente il Presidente Bettoni, eccolo lì ci stiamo vedendo molto spesso ultimamente, per me è un piacere, Giovanni Luciano che ha fatto una corposa illustrazione rispetto al decalogo e ai punti che Confsal, devo dire non soltanto oggi e questo va dato merito, non soltanto oggi va a recitare e va a sollecitare fondamentalmente la politica affinché sganci qualcosa, tanto per essere pratici. e grazie ovviamente al segretario Margiotta perché anche con lui ci stiamo vedendo molto spesso e devo dire che Confsal è sempre molto sul pezzo su questi ed altri argomenti, ricordo che sul tema sicurezza e lavoro con il già Ministro Cesare Damiano ci siamo visti tra l'altro con Confsal se non ricordo male a Bologna un anno fa circa o qualcosa del genere, laddove abbiamo trattato di questi ed altri temi e io mi sono impegnato e continuo ad impegnarmi assieme ai colleghi, chiaramente che saluto, tutti i giorni affinché effettivamente qualcosa possa accadere. E mi rivolgo anche soprattutto come faceva e come ha fatto Giovanni Luciano alla platea anche di ragazzi che noi questa settimana, soprattutto rispetto al fatto che si andrà a celebrare la giornata mondiale sulla sicurezza del lavoro e purtroppo sugli infortuni e sulle morti fra qualche ora, è una settimana in cui noi incontriamo molti giovani, devo dire che ieri con Angmil e Dias alla Camera dei Deputati abbiamo celebrato un bell'incontro dove c'erano probabilmente quasi un centinaio di ragazzi con cinque scuole e dobbiamo partire di lì. Al netto delle coperture che vanno trovate, nel senso che come l'onorevole Cesare Damiano ci ha sempre insegnato e ci ha sempre detto, trovare le coperture per qualsiasi tipo di provvedimento è una guerra. Sotto questo punto di vista non dovrebbe essere una guerra, dovrebbe essere tutto molto più lineare, tutto molto più fluente, nel senso applichiamo i modelli di organizzazione e gestione, queste sono le risorse, creiamo un credito d'imposta e per i primi anni andiamo avanti così. Bene, quindi noi ci impegneremo al netto delle bandiere politiche e al netto delle sfumature politiche che oggi qui possiamo rappresentare nel fare questo, ovvero quando la tua domanda finale, legittima, giusta e corretta, la politica e ti ringrazio per la sfumatura politica senza distinzione tra governo, opposizione, maggioranza e quella è secondo me l'idea più corretta. È pronta a fare questo tipo, non dico di battaglia, ma a portare questo tipo di argomenti nelle aule parlamentari? La risposta è sì, assolutamente sì, perché è una cosa legittima ed è una cosa giusta, non soltanto nei confronti della nostra platea di oggi per cui magari, e vi ringrazio, qualche applauso scatta e va benissimo, ma è una cosa giusta perché noi ieri avevamo alla Camera dei Deputati i genitori di Lorenzo Parelli, di 18 anni, e avevamo la zia di Giuseppe De Noci, di 16 anni, che sono due esempi di ragazzi, per cui Lorenzo Parelli in provincia di Udine, l'ultimo giorno di alternanza scuola lavoro è stato ragazzi purtroppo travolto da una putrella d'acciaio e purtroppo non se l'ha fatta. Giuseppe De Noci a 16 anni è morto in auto, su un'auto laddove lui probabilmente non sarebbe neanche dovuto esserci. Allora, e guardo ad esempio la collega Barzotti, abbiamo presentato e stiamo portando avanti la proposta della collega e la mia proposta, sono due proposte abbastanza simili, diciamo, per quanto riguarda l'insegnamento della cultura della sicurezza dalle scuole secondarie. Questo significa che non vi faremo studiare 50 ore in più alla settimana, no, anche perché dopo se no venite a corresi dietro. Allora, no, significa che inseriamo in quello che è il programma didattico delle scuole, soprattutto dalle scuole secondarie, nella piena autonomia della stessa autonomia didattica, bene, diritto del lavoro è insegnamento alla cultura della sicurezza nei propri luoghi di lavoro. Oggi noi ci troveremo, e nei prossimi anni, ci troveremo innanzi a persone, a ragazzi che oggi hanno 15, 16, 17, 20 anni, che saranno bravissimi sotto molti punti di vista, considerato che il mercato del lavoro sta cambiando in un modo radicale. Saranno molto bravi per quanto riguarda l'informatica, saranno molto bravi per quanto riguarda le lingue, saranno molto bravi per quanto riguarda la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale. Molto probabilmente qui ci troviamo di fronte ad una prossima platea di lavoratori che non lavorerà neanche più per orario di lavoro, ma per obiettivi di lavoro. Se non ci fosse stata una pandemia che ha accelerato incredibilmente i cambiamenti in pancia al mercato del lavoro, probabilmente oggi parleremo ancora di telelavoro e non di smart working o di lavoro agile, tanto per essere chiari. Però noi ci troveremo di fronte a queste persone che sono molto brave, sotto molti punti di vista, molto preparate, molto formate, molto schillate, sotto molti punti di vista, perché è quello che il mercato del lavoro richiede fortunatamente, perché ci deve essere una formazione incredibilmente ampia e giusta e corretta e mirata e certificata, ma che se ad esempio all'interno di un magazzino vedono qualcosa che non funziona, ecco che forse non riescono ad intercettarli. E avere le basi per poter fare questo ne va in primis della loro salute, il secondo della loro vita, perché la prima cosa da fare è cercare di tutelare la salubrità, la sicurezza e la vita dei lavoratori del nostro paese, non soltanto evidentemente nel nostro paese, considerato che sino agli anni 80, 70, 80, noi avevamo e le cifre ieri ce le hanno mostrate, una cifra di lavoratori che moriva ogni giorno elevatissima e da qualche anno purtroppo che noi riusciamo a scendere di questa drammatica soglia dei tre lavoratori al giorno. E attenzione, non sono soltanto tre lavoratori al giorno, perché ci sono anche tutti quelli che non vengono purtroppo inseriti in questa drammatica statistica. Se noi vede, e vado rapidamente alle conclusioni, oggi ad esempio volessimo toccare il tema, uno dei temi più importanti, anche su questo ambito, che è il tema del caporalato. Oggi chi è il caporalato, attenzione, non è soltanto quella cosa che prende un povero disgraziato e lo porta su un campo a raccogliere pomodori, è molto altro, attenzione, il caporalato, i morti in pancia al caporalato non vengono descritti da nessuna parte. Quindi questo è un dato che può essere addirittura più ampio di quello che fondamentalmente c'è. Ma oggi perché, ed è per quello che arrivo a quello che diceva Luciano prima, perché lo Stato deve dimostrarsi proattivo sotto questo punto di vista? È la prima occasione per poterlo dimostrare, lo confermo, è il decreto lavoro, quello che uscirà di qui a qualche giorno. Deve essere molto forte perché invece in alcuni ambiti, ad esempio il caporalato è più forte dello Stato, perché è più rapido, più intelligente, più svelto, più prestante, perché basta un messaggio, un sms neanche tracciato alle 11 di sera per trovare in piazza alla mattina dopo alle 4, 30, 40, 50 persone che sono più rapide dello Stato. Lo Stato deve essere dall'altra parte di questa piazza, dimostrando che si possono fare le cose in modo legale. Uno studio dell'INAIL con Accredia, l'avete citato prima, vado ad esplorarlo maggiormente, dice che aziende che hanno adottato i MOG hanno il 16% di infortuni in meno e quando accade un infortunio il 40% dei casi è di minore gravità. Allora io ve lo dico, l'ho firmato Bologna, lo rifirmo oggi virtualmente, sono assolutamente d'accordo con il vostro decalogo, non lo so se riusciremo a fare tutto. Diciamo che l'impegno c'è ed è un impegno che di qui alle prossime ore noi cercheremo di mettere a terra rispetto alle proposte emendative che voi avete suggerito, la prima è già in essere fondamentalmente, quella sulla scuola e quella sull'insegnamento, bene, io con la mia proposta cerco di andare un po' oltre, perché secondo me serve anche un minimo di diritto del lavoro, un minimo di diritto del lavoro, perché come debbono essere bravi a cercare di capire, bene, se effettivamente c'è qualcosa che non quadra in termini di sicurezza all'interno di un'azienda è rifiutarsi di fare certe mansioni, perché ragazzi dovete dire anche dei no rispetto alla vostra vita lavorativa, non serve dire sempre sì, debbono essere anche molto svelti, molto rapidi ad esempio per molto banalmente leggere un contratto di lavoro, anche questo è un loro diritto, sui dieci punti sono assolutamente d'accordo, sono assolutamente d'accordo rispetto al polo nazionale, al netto del titolo quinto dobbiamo fare dei passi avanti notevoli sotto questo punto di vista, perché c'è una delega fondamentalmente che le regioni hanno sotto questo ed altri punti di vista, secondo me il collettore di questo polo unico deve, e lo è molto forte e chiaro essere Inail, che ha la possibilità di poterlo fare, in questo aiuteremo il Presidente Bettoni anche per liberare delle risorse, perché è una cosa molto importante, così le risorse vengono equamente divise fra la politica ed Inail, per quanto riguarda tutto il resto serve, e vado veramente alle conclusioni, serve comunque che all'interno del mercato del lavoro chiunque esso sia abbia una formazione importante, anche e soprattutto coloro che si occupano di sicurezza, prima dicevate mille nuovi rispetto all'INL, bene serve che abbiano una formazione incredibile, perché il problema è che molto spesso anche queste persone che vanno a controllare i cantieri, che dopo dobbiamo essere pratici, molto spesso vengono presi abbastonate e li fanno correre dai cantieri. Allora io sogno due cose, due, sotto questo punto di vista. Il primo, applicare l'istituto, rispetto a quello che dicevamo prima, ovvero all'insegnamento della cultura della sicurezza, applicare l'istituto della testimonianza. persone che oggi sono fortunatamente, grazie a Dio, sopravvissute, dopo incidenti anche seri, sul proprio posto di lavoro, debbono essere testimonial nelle scuole per far capire quanto è importante la sicurezza, e credetemi, una testimonianza vale più di mille libri scritti rispetto al tema. Dopodiché io sogno un altro istituto, che è quello della verifica preventiva, e qui mi rivolgo all'INL, agli ispettori. La verifica preventiva significa che il momento in cui noi avremmo raggiunto un risultato, quando ci saranno ad esempio imprenditori che, ad esempio per allestire un cantiere, non è che si può applicare ovunque certamente, ma laddove si può applicare la verifica preventiva, significa che io sono l'imprenditore, chiamo l'ispettore e prima di iniziare il lavoro, bene, faccio fare una verifica e se ci sia qualcosa che non funziona, non mi fanno la multa, mi dicono metti a posto quella cosa che non funziona e dopo parti con il cantiere, pollinandoli con un certificato di qualità, perché questo secondo me deve essere. Riformare e semplificare la legislazione in materia, l'81 è sicuramente un testo di fondamentale importanza, va rinnovato, perché molto banalmente il mercato del lavoro è cambiato e si è rinnovato, chiudo eliminando, il Presidente Bettoni lo sa che ogni volta la dico questa cosa, però spero che lui sia d'accordo con me, dobbiamo eliminare i click day nel nostro paese, perché non è possibile che un'azienda che vuole investire in sicurezza sia più veloce di un'altra azienda che invece ha una linea internet un po' più, anzi meno rapida e non riesce a prendere i contributi ad esempio dei bandi easy, perché non ha le persone che cliccano dalla mattina alla sera, perché ha una linea internet un po' meno veloce e quindi penso che chi investe in sicurezza debba essere risarcito dal 55 al 65% esattamente sul progetto che fa, non sulla base di un click e sulla base di una linea internet più o meno veloce. Quindi io li raddoppierei addirittura i fondi dei bandi easy, ma non fatti con il click day. Detto questo vi devo salutare perché dobbiamo, io e i colleghi, scusate se mi sono dilungato un po' di più, andare a presiedere la Commissione Lavoro. Solo un secondo prima di liberarla, quanto ci può essere in germe, in nuce o in antipasto di questi temi che lei ha affrontato nel decreto lavoro, nel decreto lavoro in preparazione, cioè quali sono i punti qualificanti sulla sicurezza? Perché per ora dalle bozze non mi sembra ci sia tantissimo sulla sicurezza. Le rispondo telegraficamente, il Parlamento esiste perché il Parlamento è il legislatore di questo Paese e quindi il Parlamento deve essere molto bravo a demandare sotto questo e da altri punti di vista il decreto lavoro, anche sulla base di questi punti. Grazie, buon lavoro. Grazie, onorevole. Sì, diciamo sia per questioni di tempo, sia per questioni di alternanza, maggioranza, opposizione, diamo la parola al senatore Magni di Alleanza Verde e Sinistra Italiana e così verifichiamo subito in tempo reale se c'è una convergenza su questi temi anche con le forze dell'opposizione. Intanto grazie a tutti e a tutte, grazie ovviamente alla Confrad per l'invito e vorrei, l'unica persona che conosco a questo tavolo è Cesare Damiano che abbiamo lavorato per molti anni insieme e quindi lo saluto volentieri. Io sono un operaio che ha lavorato in fabbrica e poi ha fatto sindacalista della FIOM per 30 anni e oggi sono approvato al Parlamento. Detto questa cosa ci sono convergenze, certo, io sono stato poche settimane fa relatore unico in commissione e in aula per la Costituzione al Senato ed è stata approvata ad una limità dal Senato la commissione d'inchiesta sull'assfruttamento e la questione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Quindi è stata costituita una commissione d'inchiesta che il Parlamento ha approvato, almeno il Senato ha approvato ad una limità. Quindi vuol dire che c'è stata una convergenza, abbiamo lavorato su quattro proposte che c'erano in commissione e abbiamo trovato una sintesi, siamo riusciti ad approvare in tempo. In questi giorni ovviamente ogni gruppo sta nominando i propri rappresentanti e poi dovrà iniziare a lavorare. C'era anche in passato questa commissione, anche a differenza degli anni scorsi, del precedente legislatura, è stata introdotta intanto il fatto che non fa una relazione solo a fine legislatura, ma dovrebbe relazionare almeno ogni anno al Parlamento per poter, rispetto alle cose che diceva anche qui il sottosegretario, fare delle leggi o correggere delle leggi, fare delle proposte per poter intervenire, ovviamente a correggere. E c'è un articolo, l'articolo 3, che ovviamente interviene sia sui compiti che ha da fare, che tendenzialmente sono di controllo, anche di in qualche modo un po' di repressione da questo punto di vista, però c'è anche un concetto forte di prevenzione e di, a questione della formazione. Ora qui tutti hanno detto una cosa importante, bisogna fare la formazione. Ora è chiaro che, ad esempio, la mia esperienza lavorativa, ai tempi in cui lavoravo io, dentro le fabbriche addirittura c'è la medicina del lavoro, ad esempio. Perché non è un fatto individuale, è un fatto collettivo anche quello di modificare certe questioni. Noi abbiamo conquistato, diciamo, degli spazi dentro i luoghi di lavoro, il problema è che questi spazi, questi impegni devono funzionare. Veniva fatta una proposta, io parlando con Gianno, quando abbiamo discusso, che mi ha invitato a questo convegno, ovviamente abbiamo trovato molta sintonia sulle proposte che qui sono state avanzate oggi. In particolare il problema è quello di lavorare per prevenire, perché giustamente il dato finale, la tabella finale è impressionante. Quanto è il costo di una morte? Quanto è il costo di un infortunio? Oltre che dal punto di vista, diciamo, economico, ma dal punto di vista umano, che cosa significa? Questo è il dato fondamentale. Cioè, la prevenzione è un investimento, non un costo. Non può essere un costo. Ora, il dato anche qui, in Commissione del Lavoro al Senato, si sta discutendo, ad esempio, si è iniziato, almeno a affrontare un tema, della copertura di tutti quei lavoratori e lavoratrici che non hanno nessuna copertura assicurativa. Perché quando abbiamo iniziato a discutere, ad esempio, del post-Covid, è uscito questo dato. Quindi, sempre per stare in funzione della domanda, se la politica può fare qualcosa, può fare molto. Ovviamente, in questi casi, ognuno porta le proprie opinioni, perché è giusto che porti le proprie opinioni, le proprie sfaccettature e, dopodiché, deve essere in grado di fare sintesi. La politica è un servizio, diciamo, ai cittadini. Non è il fatto del primato di fare la politica per la politica di se stesso. Deve servire e deve essere utile al Paese. Questo è il dato fondamentale. Io sono uno di quelli che ho le mie idee da sempre, però penso che non è tanto peggio, tanto meglio. Il problema è quale condizioni migliori se sei in grado di migliorare questo dato. Ho detto prima, quindi questo è l'impegno, ovviamente, che per quanto ci riguarda, dal punto di vista politico, portiamo avanti e stiamo cercando di farlo. Ripeto, il dato è che non si può nascondersi dietro i costi, perché i costi sono, diciamo, i costi economici. Nessuno è in grado di quantificare esattamente, lo diceva prima Luciano, c'è esattamente qual è il costo per lo Stato del fatto di, se uno è un invalido permanente, se uno ha una morte. Tant'è che addirittura anche sul problema del risarcimento la commissione di inchiesta intende intervenire, perché anche qui non tutti sono trattati nello stesso modo. Quindi benvengano delle norme come qui venivano proposte. Quindi da parte mia, da questo punto di vista, da parte politica che rappresento, c'è questo impegno fondamentale. Però vorrei dare un messaggio che, essendo comunque parte di quella commissione che abbiamo fatto, che è stata istituita, cercherò di portare avanti queste proposte, dal punto di vista legislativo, dal punto di vista dell'applicazione, perché siano realizzate. Il risultato qual è? È quello che veniva qui detto. Bisogna fare in modo di ridurre fortemente. Però per fare questo potete, lasciatemi una cosa, che però non sta scritta, la prevenzione è anche sicurezza e riduzione del precariato. Perché per poter insegnare ai giovani le proprie condizioni, i propri diritti, non può stare un lavoratore tre giorni, otto giorni, dieci giorni in un posto di lavoro. Perché se è così non può funzionare, non è in grado, non sia in grado, diciamo una cosa, però se ne fa un'altra. E allora il problema è la prospettiva. Noi stiamo producendo in questa società troppa precarietà. C'è un elemento di aumento di disuguaglianza. e di precarietà del lavoro che è anche causa di molti infortuni e anche di nuove malattie. Perché l'ultima cosa che voglio dire è che non solo il post-covid, ma dentro le fabbriche e negli uffici, proprio perché come dicevamo anche il sottosecretario ha cambiato il lavoro, ci sono molte malattie che prima non conoscevamo. Anche da un punto di vista psichico, da un punto di vista della propria condizione, chi è in grado di misurarle oggi queste malattie? Pochi. Allora è un ragionamento che... questo è un impegno costante e benvenga il fatto che l'INAIL, non solo diciamo come ente risarcitorio, ma come proponente invece di prevenzione, quindi come soggetto che più che pagare deve prevenire. Questo è il concetto fondamentale e quindi bisogna spendere le risorse e metterle a disposizione. Spendere quelle ci sono e mettere a disposizione tutte quelle che sono necessarie. perché solo così io credo potremmo invertire una tendenza. Grazie. Grazie, grazie al senatore Tino Manchi. Scuso perché io essendo anche in commissione bilancio c'è il DEF al Senato. Lo so, siete un po' tutti nella stessa situazione. Io sto cercando di velocizzare il più possibile e darei immediatamente la parola all'onorevole Tenerini di Forza Italia, così passiamo, diciamo, ritorniamo nella maggioranza e speriamo che accolga anche l'invito del collega di maggioranza a intervenire anche nel decreto lavoro, insomma, se ce ne sarà occasione durante l'iter parlamentare. Grazie. Anch'io mi associo a ringraziamenti di chi mi ha preceduto, quindi ringrazio il Presidente dell'Inail, ringrazio il Segretario Generale di Consalmar Giotta, ringrazio Giovanni Luciano e chi è intervenuto prima di me. Voglio fare, intanto avevo preparato un intervento, poi sono state dette talmente tante cose e inaspettata e gradita la presenza degli studenti, per cui voglio anche rimodulare proprio in vostra funzione, perché cose, ne sono state dette tante, sono state dette tutte cose, tante cose giuste, in tutti gli interventi, quello che ha detto il collega Rizzetto è verissimo, arriverà, approderà un decreto lavoro, è compito del Parlamento, perché se no ci dimentichiamo che si è un po' desautorato, in questi anni, la funzione del Parlamento, che deve essere, della quale si deve riappropriare, è quella di partecipare alla formazione delle leggi di questo Paese, quindi con diligenza, con attenzione, anche in questo caso, formuleremo gli emendamenti in modo da correggerle, da indirizzare il decreto nella maniera giusta e di apportare il nostro contributo. Però io oggi ho sentito tante cose giuste, ma le voglio dire a voi ragazzi, perché tutto quello, la proposta di legge del collega Rizzetto e della collega Barzotti sono giustissime, la formazione, è a voi che noi parliamo, siamo qui per voi, per consegnare alle vostre generazioni, alle future generazioni, qualcosa di diverso. Io mi rendo conto che voi sarete anche molto sconcertati, perché purtroppo non diamo sempre prova di fare bene il nostro lavoro per tante contingenze. Noi speriamo, perché anche il Presidente Rizzetto l'ha detto, sarà un impegno quello di appoggiare, anch'io sottoscrivo virtualmente il vostro decalogo e la vostra proposta, che in qualche maniera oggi ci trova a dover correggere quella che è stata un po' una stortura, la modifica del titolo quinto. Noi oggi paghiamo una modifica del titolo quinto che in qualche maniera invece di facilitare ha un po' complicato il rapporto Stato-Ragione-Regioni e la gestione di certe competenze e mi sembra che queste vostre proposte in qualche maniera cercano di, in questo settore, correggere quelle che sono le storture del titolo quinto e di darci in qualche maniera un modo omogeneo di affrontare il problema. Credo che questo sia fondamentale per cui sottoscrivo i dieci punti soprattutto per quanto riguarda la formazione di un'agenzia un polo unico che faccia da collettore e che metta insieme e garantisca l'efficienza del mondo e della sicurezza sul lavoro. Però a voi ragazzi e quindi la formazione nella scuola che davvero non deve essere vista come un'ora aggiuntiva di qualcosa che cosa fatica ma è l'ora aggiuntiva che crea in voi la consapevolezza perché finché sarete quando sarete cittadini esseri partecipi e consapevoli della vostra presenza all'interno della società sarete sicuramente cittadini e esseri più liberi perché la libertà è il primo principio e il primo diritto a cui ogni individuo deve essere garantito. Ricordiamoci che la nostra Costituzione che è un testo fantastico contiene al suo interno la parola lavoro e lavoratori che è la più presente subito dopo la parola legge è contenuta 19 volte e la nostra Costituzione si fonda sul diritto del lavoro la nostra è una Repubblica fondata sul lavoro per cui non esiste un diritto al lavoro se questo diritto al lavoro non è prima di tutto un lavoro sicuro è un lavoro ben retribuito è un lavoro dignitoso questo è fondamentale mi auguro e qui abbiamo anche la rappresentante del sindacato degli insegnanti insomma del mondo della scuola che in questa previsione di questa ora di formazione ci sia anche la formazione e la consapevolezza di quelli che sono i vostri diritti come futuri lavoratori perché noi siamo qui per dovervi garantire un lavoro sicuro dignitoso ben pagato retribuito giustamente e anche come ha detto prima il senatore non deve essere dobbiamo combattere la lotta al precariato dobbiamo combattere la lotta al lavoro sommerso e credo che ogni strumento come questo decalogo come il rafforzamento della contrattazione collettiva nazionale come tutti gli strumenti che abbiamo grazie a Dio a disposizione sono utili per andare in questa direzione io vengo dal mondo dell'impresa faccio outing perché alla mia prima legislatura e credetemi tutto credevo tranne che andare in commissione lavoro non appartiene al mio background alla mia formazione però mi sto appassionando a questo mondo vengo dal mondo dell'impresa per cui in qualche maniera il mondo del lavoro lo conosco magari sotto un'ottica e credo che anche la proposta di sgravi sul pagamento dell'INA dell'azienda sia fondamentale oggi le aziende sono gravate da una marea di costi di laccioli orpelli quindi anche semplificazione e la direzione credo che sia quella giusta quella io non sono una grande sostenitrice del credito d'imposta perché credo che sia più utile per certi tipi di aziende ma per le piccole micro imprese il credito d'imposta non è un aiuto non serve a molto mentre prevedere delle riduzioni sulle tariffe INAIL e applicate le percentuali giuste secondo me cioè partendo dalle riduzioni più alte per le piccolissime le micro imprese le imprese familiari che rappresentano l'ossatura del nostro paese che devono essere sostenute perché sono il nostro mondo credo che sia l'approccio giusto per cui ragazzi prendete in mano il vostro futuro quest'ora di formazione spero che ci sia di sicurezza di prevenzione al mondo del lavoro anche attraverso la presenza di persone che hanno purtroppo subito nella loro vita però sono qui a raccontarcelo magari un infortuno sul lavoro perché l'esperienza diretta è l'unica cosa che può veramente colpire anche l'immaginario e le sensibilità di ognuno di noi io vengo da una visita a San Patrignano lunedì perché sono una estrenola convinta che la prevenzione anche nel mondo dell'abuso della droga è fondamentale sentirlo raccontare da loro è tutta un'altra cosa piuttosto che sentirselo raccontare da un formatore da un professore dal proprio insegnante da un ispettore quindi formazione importante ragazzi cogliete ogni secondo di quello che questo nuovo percorso questo nuovo mondo anche della scuola che non deve essere solo settorizzato agli istituti professionali o a solo a quella specifica competenza deve essere una visione allargata perché siate consapevoli cittadini domani del futuro per cui io vi ringrazio sottoscrivo il vostro decalogo e sono a disposizione sia per quanto riguarda le proposte emendative nel decreto lavoro perché credo che tutti insieme questo Parlamento rispetto a certi temi deve trovare unità e quella è stata trovata anche alla Camera lo diceva il Senato il Senatore anche alla Camera abbiamo istituito la commissione di inchiesta per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro questo è fondamentale faremo un ottimo lavoro lo facciamo con trasversalità certi temi appartengono veramente alla collettività non alla politica grazie grazie mille onorevole per l'appassionato intervento segretario questo che continua così diventa legge il decalogo nell'arco di un paio di mesi perché mi sembra ci sia una convergenza assoluta staremo a vedere poi però facciamo un check li richiamiamo tutti a vedere quali sono stati i risultati raggiunti allora io non so se ci sono delle delle priorità di voto di chi deve andare via però si è rimasto di ciò ok allora inizio dalla onorevole Barzotti del Movimento 5 Stelle grazie grazie della parola grazie dell'invito buongiorno a tutti sono molto contenta di essere qui per parlare di questa tematica mi scuso per la voce ma mi sgolo condizionalmente oggi sono un po' senza non voglio ripetere le cose che sono già state dette perché insomma è stata una mattinata molto ricca quindi mi limiterò a qualche brevissima considerazione allora innanzitutto come diceva il presidente Rizzetto noi riteniamo il decalogo che ci è stato sottoposto tendenzialmente condivisibile ci sono alcuni punti su cui si necessitano ulteriori riflessioni penso in particolare al ruolo di Inail perché è evidente che Inail sia un perno centrale e fondamentale di tutto quello che orbita attorno alla sicurezza sul lavoro ma banalmente perché poi è Inail che paga quindi evidentemente nel momento in cui c'è un infortunio forse sarebbe meglio coinvolgere Inail a monte in modo da poter indirizzare anche le strategie che possano arrivare a evitare quello che poi è un costo per tutti un costo in termini di vita umana un costo in termini di stato in generale quindi sicuramente andare a capire come Inail potrebbe riuscire ad essere incisivo nella prevenzione al di là di quello che già fa e per cui io ringrazio perché se non fosse Perinail che sottoscrive sempre e spesso protocolli per insegnare la cultura della sicurezza nelle scuole ovviamente questa cosa questo elemento così importante per cambiare la cultura di un paese non ci sarebbe perché al momento è tutto previsto all'interno del testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro perché ci sono varie norme che parlano di cultura della sicurezza nelle scuole però di fatto non è che venga fatto molto anzi ci sono delle esperienze virtuose avevo letto ad esempio Portolab di Genova che trovo molto interessante perché si portano i ragazzi all'interno dei cantieri navali e quale miglior modo di imparare di capire quello che può essere un rischio se non un'esperienza diretta sul campo è questo il motivo per cui il primo giorno di legislatura io ho presentato la proposta di legge su questi temi perché secondo me è necessario un cambio di passo anche questo è già grazie Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. caro. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. un secondo solo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. e a tutti. a tutti. e 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 a tutti. a tutti. e 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 tutti. e a 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 tutti. e tutti. e a tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e a tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e tutti. inauguriamo. e tutti. 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 e... e tutti. e tutti. e tutti.